Ciao a tutti e ben ritrovati su Monster Hunter 3 Ultimate. Io sono sempre Dark Griever e oggi continuiamo con le missioni del villaggio di Moga. Oggi si caccia di nuovo il Ludroth. Ciao a tutti. Come sempre troverete la guida in descrizione. 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 Come sempre troverete la guida in descrizione.